Andiamo come rende? Eh beh, anche un vestitino semplice come può essere il mio, vedete che dà subito un tocco, bello anche da mettere magari qui, perché no? Lo sto del microfono, io ho il microfono oggi però, se uno non... Cari amiche particolari, allora qui io vi scalo naturalmente quella che vi sto vedendo con brillanti bianchi, parliamo cari amiche di brillanti veramente veramente meravigliosi, F color puri, sono 5 bellissimi brillanti, vediamo se riusciamo, no, niente il microfono antiesteticamente lo dobbiamo tenere qui, eccole qua, cioè viste anche, vedete anche da lontano, a vista una, sono molto molto belle. Abbiamo deciso di fare anche, dedicare a queste bellissime verette una presentazione un po' differente, perché no? Eh? Una presentazione che accontenta un pochettino anche i fans che sono sempre tanto carini e sempre più numerosi, loro vorrebbero che io facessi tutti i lotti così sullo sgabbello appollaiata, non è proprio il massimo della comodità star tre ore così, però con queste, vedete, è molto carina anche proprio l'immagine, tanto diamo anche un qualcosa di differente alla trasmissione. Tutta lunga, quindi una comunque già potrebbe bastare assolutamente, beh tre, comunque a 9,90 amiche portete per mettervi il lusso di prenotarne anche due, dico almeno due, 1980 euro non è tanto, eh? 1980 euro amiche è molto poco. Quindi forza e coraggio, voglio sentire tantissime telefonate oggi, assolutamente, veramente tante, è domenica pomeriggio, adesso è la prima presentazione per queste verette, le vedremo comunque ancora, sempre se non le acquistate tutte adesso, certo, se poi finiscono e poi non le vediamo più. Molto molto carine. Sai cosa faccio Luca? Intanto io mi posso giusto muovere, tu mi sei, alternano, ci sono cinque bellissimi grandi princess, alternano ancora la baguette, quindi pensate un attimino l'esecuzione. Intanto vedete che io mi sono anche allontanata dai fari, diciamo, dai granzate, intanto chiamate, chi vuole chiamare chi vuole pensare, chi vuole pensare, pensa. Belle. Molto belle. Cioè basta anche una riviera, non è che tante volte non ci vogliono veramente tanti gioielli, non è che dobbiamo andare come dei... Vediamo dove mi arrivano. Devo leggermente... Oh va bene dai. La vedono, la vedono, arriva l'ombelico. Cento di... al grammo il che è davvero, davvero pochissimo. È poco, 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 pochissimo. È poterla avere, care amiche, per il vostro, la vostra Pasqua, per da mettere nel vostro uovo di Pasqua. Mi raccomando, quindi siamo di fronte alle ultimissime possibilità. Abbiamo anche cambiato il metodo di presentazione, questo è dedicato a tutti i fans, eh? Quindi già lo sapete, che è dedicato a voi. Comunque anche così le visionate bene, senza... Pensate il girello è là, quindi quelle sono sotto i fari, queste no, perché comunque i fari rimangono così più distanti e nonostante questo brillano. Tante volte, tante signore, poi ci rimangono malissimo, perché poi il prodotto comunque termina, io sono qui per vendere, quindi assolutamente. L'archezzo, siamo senza l'archezzo, siamo senza l'archezzo. l'archetto, si è rotto l'archetto, siamo con il ciucciotto, siamo con il ciucciottino. Bene, allora, le ultime telefonate e poi diamo lo stop alle verette, ok? Quindi ci muoviamo un po', diamo un po' di... 5 carati, 59 è il... ce la faccio più io, star seduta è la caratura, e poi diamo un po' di...